Ti sposi? Temi di prendere la decisione sbagliata e vivere un matrimonio morto e banale uguale a mille altri già visti, compreso quello di nonna? In un matrimonio ci sono mediamente 100 invitati. Sai che 95 di loro tornano a casa stanchi, abbuffati e con la sensazione addosso di essersi annoiati? Sai cosa devi fare per evitare questo? Ciao, io sono Francesco Barattucci e sono il fondatore di Matrimonio Travolgente. Il primo servizio musicale in Italia nel settore del matrimonio specializzato ne fa scatenare tutti a fare festa. A differenza del musicista protagonista che con il suo show, oltre a rubarti la scena diventando la star del tuo matrimonio, non riesce a far scatenare i tuoi ospiti a fare festa e a differenza dell'animatore invadente che il stile villaggio turistico li mette a disagio facendoli diventare il suo zimbello, matrimonio travolgente grazie a un metodo innovativo aiuta gli sposi che vogliono vivere un'esperienza unica ed indimenticabile ad ottenere una festa dove tutti si scatenano in modo spontaneo e senza nessuna forzatura. Applausi! 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 Sì, sì, sì. La coreografia delle pote di Savone Questo sottofondo Magico Emozionante Ci siamo signore Confini Entri a disposito A fare le pote Qui succede questo Ragazzi Ma quanto ci siamo a divertire Esattissima Matrimonio Siamo a voler Sette Sette